Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per incidente verso Roma, tra Arezzo e Monte San Savino. Ci spostiamo sulla Firenze Mare per traffico, codi a tratti tra Monte Catini Terme e Livio Polla 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Ci troviamo nella carreggiata verso Firenze. E arriviamo in Fipilì per lavori, coda di 5 km tra Empoli e Ginestra verso Firenze e coda di 2 km in carreggiata opposta tra Ginestra ed Empoli Est. Sempre in Fipilì per veicolo fermo o in avaria, 4 km di coda tra Scandicci e Ginestra in direzione Mare. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, segnaliamo il restringimento di carreggiata e rallentamenti per incidente in via del San Sovino. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.